Siamo pronti al voto. I 5 Stelle prendono atto non senza polemizzare con l'alleato. Se è vero che non tengono alle poltrone, votino subito il taglio dei parlamentari e poi alle urne. Luca Moriconi. La tranquillità di ieri cede, il passo alla rabbia. Adesso è tutto chiaro per Luigi Di Maio. Salvini dice ha fatto cadere il governo perché ha messo i suoi interessi davanti a quelli del paese. Sfiducia il suo premere, butta giù il governo, attacca che aveva dato nuova speranza agli italiani, fermato gli sbarchi, aumentato l'occupazione, realizzato quota 100 e reddito di cittadinanza. È un fiume in piena. Il capo politico dei 5 Stelle, dopo l'accelerazione del leader leghista, vuole capitalizzare i sondaggi. Ma questa cosa nella storia si paga, avverte Di Maio, che reagisce senza tirarsi indietro. Nessuna paura di andare al voto, spiega, ma adesso si apre un periodo di incertezza. L'IVA, che rischia di aumentare le promesse ai cittadini, come flat tax e taglio del cuneo fiscale, disattese, dice. Stavamo per togliere le concessioni autostradali a Benetton. Con che faccia, si chiede Di Maio, la Lega andrà a commemorare le vittime del Ponte Morandi. Non siamo all'angolo, il messaggio e il rilancio. Se il problema per la Lega non sono le poltrone, è il momento di dimostrarlo. Votiamo subito il taglio dei parlamentari e poi torniamo alle urne. Un invito e non una sfida precisa che estende a tutte le forze politiche. Sul tema interviene anche Di Battista con un durissimo attacco al leader leghista. Questo politicante di professione scrive, senza nominare mai Salvini, manda tutto all'aria per pagare i cambiali a parlamentari terrorizzati.